Sono davvero piaciuto perché quando i miei giocatori, la squadra nazionale chiamano i miei giocatori, siamo davvero orgogliati, perché significa che stiamo lavorando molto bene e stiamo cercando di aiutare i giocatori a andare con la squadra nazionale, in questo caso per Eric era un davvero buon ragazzo per lui, ma quello che posso dire è che è stato un punto di iniziato, che deve ottenere la possibilità di andare alla World Cup, specialmente in questo mese e mezzo che abbiamo prima della World Cup, di continuare a giocare bene, di avere una buona performance, di mostrare che ha una buona stabilità, che è un giocatore reale e leggero. Lo che posso dire è solo questo, di continuare in questo modo, di continuare a lavorare, di lavorare forte e di avere questa concentrazione. e per il resto penso che i miei staff, i miei, i miei, i miei, i miei, sono molto felici per questa chiamata nella squadra nazionale. e per il resto penso che i miei, 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 i miei